Siamo ancora in commissione, bilancio, a fare una battaglia senza precedenti per chiedere di stanziare risorse, contributi a fondo perduto per famiglie, imprese per contrastare il caro bollette. Da Regione Abruzzo, dal centro-destra che governa Regione Abruzzo, Lega, Fratelli Italia e Forza Italia, sono arrivati zero euro, zero proposte, zero per contrastare il caro bollette. Questo ci sta spingendo a un costruzionismo che durerà ore e ore in commissioni e anche in consiglio. Non è possibile che dopo decine e decine di giorni dove ci siamo mobilitati, abbiamo portato cittadini anche a protestare di fronte al Palazzo della Regione a Pescara, i sindacati si sono mobilitati, le associazioni di gare e di gori hanno fatto richieste specifiche e precise, si continuano a parlare di zero euro per contrastare il caro bollette. Noi la nostra proposta ce l'abbiamo, continueremo a far lavarele in tutte le sedi competenti, sperando che finalmente il Presidente di Regione, il Presidente del Consiglio regionale, tutta la maggioranza possa accettare le nostre proposte. Noi siamo disposti a rimanere qui tutta la serata, anche a fare notte fonda per tutelare gli interessi dei cittadini abruzzesi. Saremo disposti a discutere anche e soprattutto su un contributo per la vita indipendente, come hanno chiesto giustamente le associazioni portatori di handicap. Non solo altro, tutto il resto è superfluo. Invece Regione Abruzzo ha continuato a presentare proposte con finanziamenti a pioggia per enti, istituzioni e associazioni che nulla hanno a che vedere per il contrasto al caro bollette e il sostegno per la vita indipendente.